Ciao a tutti amici e benvenuti alla Bianco Auto, oggi andiamo a fare la manutenzione del cambio automatico su questa Volkswagen Tiguan 2000 turbodiesel, cambio automatico DSG a 7 marce, ci va questa attrezzatura specifica per andare a inserire l'additivo di lavaggio del cambio automatico, poi andiamo a cambiare le marce sulla vettura come sta facendo l'operatore, perché andando a cambiare le marce dalla prima alla settima marcia e anche alla retromarcia andiamo a fare aprire tutte le elettrovalvole e quindi andiamo a pulire tutto il circuito della meccatronica, una volta che abbiamo finito questo lavaggio che viene fatto con un additivo di lavaggio che è un lubrificante e non è un solvente, un additivo di lavaggio della Liqui Moli, leader mondiale della lubrificazione, noi ne avremmo già fatti mille, non abbiamo mai avuto nessuna problematica, manutenzione che tra l'altro va fatta ogni 60.000 km, poi andremo a sostituire il filtro del cambio automatico con un filtro nuovo e andremo a inserire un additivo di mantenimento che va ad aiutare il lubrificante a cercare di lubrificare meglio e mantenere meglio tutti i circuiti del cambio automatico. Con questa operazione daremo lunga vita al nostro cambio automatico. Quest'operazione noi la facciamo su tutti i tipi di veicoli col cambio automatico, quindi dai Audi Volkswagen, BMW, Mercedes e quant'altro. Sul nostro sito internet biancoauto.it c'è una pagina dedicata ai preventivi e ai prezzi dell'officina dove troverete anche i prezzi delle manutenzioni del cambio automatico delle principali vetture. Se avete una vettura che non c'è scritto il prezzo, vi mandate un messaggio whatsapp al 345 060 86 80 o un email a infococciolabiancoauto.it o ci chiamate al numero fisso 0141 96 92 14 e noi vi faremo, previo copia del libretto o numero di targa o un preventivo dedicato sulla vostra vettura che non ci sarà scritto sul nostro sito, ma ce l'abbiamo quasi tutte. Per Info e Preventivo chiamateci. Ciao a tutti, alla prossima.